giulia è l'amica di oggi ciao elena ciao 5 4 3 2 1 l'immagine che mi arriva di lei con mano una scopa che pulisce il pavimento in maniera molto frenetica e ha dietro un drago però nero un drago molto brutto tutto nero con l'espressione molto aggressiva con dei denti molto che tira fuori i denti che le sta dietro molto più alto di lei che la la controlla diciamo la segue affinché lei pulisca tutto velocemente ok chi dà l'autorizzazione vediamo la vibrazione di giulia a 18 miliardi consapevolezza 109 109 per cento di sb 38 62 vite precedenti 2.123 cervello 9.4 interferenze teoriche a questo drago c'è un un'isettoide create le ali e tipo bene se toglie semplifichiamo già non nemmeno sono i dettagli sì però non è proprio in lontananza che piccolo in lontananza ed è collegato a giulia con un filo poi poi c'è una sfinge è un falconiforme la sfinge una donna leone è un ibrido sì è un ibrido e lui e quindi che universo allora secondo come se avesse incamerato delle informazioni di interferenza se leonidi del primo no è come se lui come se questa questo elohim spinge fosse quello che deputato a interferire ma come se avesse fatto come se avesse imparato una parte di interferenza felinoide del primo universo quindi come c'è lui agisce ma anche da parte di questa interferenza felinoide ok ci sono dl 4 mentali allora 23 una di livello 2 una di livello 4 una di livello 52 quella che allora fa credere a giulia che non si può muovere perché non ha direi capacità ma anche possibilità quindi è inutile che faccio qualsiasi cosa perché tanto non sono in grado non posso poi la 4 è la grande insicurezza e timidezza timidezza insicurezza si tutte e due direi ma grandi c'è proprio molto affermate no quindi anche se non anche se in alcuni momenti non ci fossero lei sa di essere timidezza e insicure quindi non si muove neanche cioè non si muove già prima perché sa che è insicura e timida ok quindi proprio staticità pure anche qua e poi c'è quella di livello 5 che è proprio quella che è collegata anche al drago di direi quasi sotto missione nel senso che dire come posso descrivertelo è quasi come se lei può fare solo a comando come se lei pensa di poter fare solo a comando quindi vedo vedo una sua autonomia esclusivamente in casa a casa sua proprio in casa ma perché è come se avesse già benestare diciamo di suo marito in questo caso che come fa va bene e quindi lì si sente sicura di muoversi autonomamente comfort zone sì sì ma proprio comfort zone proprio statica e affermata impianti c'è un disco un impianto mentale che in mezzo alla testa al cervello proprio mezzo e gira quindi proprio un continuo movimento con pensieri continui che vanno dall'entità mentale 245 di continuo poi a un impianto quali a livello della tiroide una sfera allora quell'impianto riserve a principalmente serve lo utilizzano come modulatore delle sue emozioni direi proprio così nel senso che diciamo a a comando delle interferenze quasi come quasi come se non ci fosse qualcosa di esterno che lo provoca lei può diventare triste oppure può diventare ansioso oppure negativa verso di sé che si mista con paura proprio modulano le emozioni c'è motulano le vibrazioni per provocare delle emozioni negative in giulia ecco questo poi ne ha due all'interno delle cresterie anche non sopra ma dentro come se fossero appoggiate nella fossetta non delle cresteria che una destra una sinistra e sono questi due sono collegati ad aurora a due che ha nelle ginocchia dentro proprio dietro il cavo poplite uno a destra una sinistra dentro il mezzo e poi due dentro le caviglie proprio dentro e sono tutti tutti collegati questi sono utilizzati diciamo ne avete tutti i giorni di giulia per bloccarla un po il movimento sono questo questo qua fa parte del programma del progetto che hanno per giulia soprattutto attuato dal dalla sfinge e luna in collaborazione con l'entità mentale 4 e 5 con gli edl e come se modulassero il suo movimento quindi diciamo la sua insicurezza il suo non muoversi la sua attenzione nel muoversi è dato anche proprio da questi impianti fisici che a volte quasi la bloccano fisicamente e attivano tutto il processo poi di timidezza o di ansia o di paura basta se causo circa della confusione mentale l'entità mentale di livello 2 principalmente la 2 stanchezza la stanchezza è data da tutte dall'entità delle interferenze eteriche la sfinge e quello che modula la tiroide certo sì sì no no non avevamo detto ma l'insetto sì soprattutto perché proprio prendono l'energia quindi da tutti gli impianti proprio questo blocco questo alto e basso delle vibrazioni per le emozioni soprattutto ma anche la parte fisica che viene bloccata scaricano proprio le forze l'energia si emicrania l'impianto mentale vedo proprio con te continua a girare mandare pensieri tiroidite c'è l'impianto qua c'è un impianto con l'impianto eterico è attaccato al filo dell'insetto schiena la schiena si tiene quello lì è più una conseguenza di tutto il resto di tutta la sua addome a livello proprio impianti no allora vedrai più legato indirettamente alla alle variazioni emotive quindi proprio come se per per giulia l'addome fosse diciamo il cervello delle emozioni ecco dire così diciamo proprio la centrale e delle emozioni quindi queste variazioni emotive provocate e dal lento che ci siano questi sbalzi quindi vedo proprio come un movimento a volte con fiore a volte movimento nell'addome ma è una conseguenza indiretta del resto degli sbalzi emotivi ci siete direi più una cosa sua emotiva di trovare il suo spazio il suo posto non sa ancora qual è il suo posto non è stata ancora in grado di diciamo marcare il territorio il suo territorio anche come adesso la sua realizzazione personale rispetto a tutto ci inizia da mettere il peso legato l'ho visto già prima a questa modulare modulazione delle sue emozioni ed alcune emozioni la fanno sentire con un vuoto con una mancanza questo fa sì che lei mangi di più in quei momenti lì è proprio questa o solitudine oppure tristezza anche la paura e l'ansia è come se lei col cibo si sentisse più protetta più sicuro e più forte è un po come la vedo invece che tipo la coperta di linus lei al cibo ecco golosità come scusa non sento bene golosità ma se la vedo legata alla stessa cosa sai un po sostituire sì ok andiamo al periodo in cui per due anni lei la sorella una aveva nove mesi l'altra tre anni vengono lasciate per due anni non due mesi due giorni due anni dalla nonna paterna e dalla zia che vivono insieme e che affittavano una stanza a sconosciuti sempre diversi no come fosse un airbnb affitto stanza di oggi lei e la sorella hanno delle sensazioni andiamo in quel periodo lì prima di tutto siccome i genitori non parlano per quali motivo i genitori li hanno abbandonati diciamo ai parenti per ben due anni allora vedo c'è qualcosa come se non potessero avere una casa loro perché non potevano mantenerla a livello economico ma perché hanno perso tutto o anno io li vedo questo post dove dormono solo e lavorano tantissimo per questa persona con cui hanno un debito enorme quindi praticamente come se dovessero stare lì per coprire il loro debito perché hanno successo qualcosa tipo un fallimento improvviso una perdita di soldi improvvisa e che quindi per ripagare questa cosa sono dovuti andare a stare in questo posto dove lavoravano sempre tantissimo invece a casa della nonna è successo qualcosa si è a casa della nonna io vedo che però c'era qualche parente o conoscente stretto che veniva spesso da loro che veniva spesso lì più che quelli che dormivano lì è stato fatto qualcosa alle bambine se a tutti e due allora più alla grande la piccola allora le a giulia dopo giulia tu se la piccola sarà piccola a giulia agli ultimi periodi ma vedeva quello che veniva fatto alla sorella ma stiamo parlando di quello completo 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 no però quasi nel senso poco non so potete descrivere la scena ma tanto non mi sbaglio caso non fatti ecco quindi non proprio del diritto ma quasi direi scusa ma la nonna lo sapeva a zia no lo sospettava ma non ha mai usato chiedere sembrava troppo diciamo cerca di mettere la testa sotto la sabbia far finta di gesto qua parente stretto sia il figlio della nonna il fratello del padre di giulia si c'è un fratello giulia giulia c'è un fratello tu vado a un fratello più grande o più piccolo più grande molto più grande no più grande e basto di due anni vabbè infatti più o meno ma è lui eh sì io vedevo che era un fratello della zia quindi come faceva scusa in casa c'è una nonna una zia questa nonna la camera delle bambine a fare quello che vuole no no e quello che vedo io e che tipo loro dovevano con la scusa che lui le intratteneva mentre loro andavano fa la spesa compiere così in alcuni momenti di quel tipo di il mondo di merda ok allora la sorella ha ricordi un po più precisi essi giulia si sente sporca se esotericamente parlando cos'è questo sentirsi sporca un impianto un'interferenza un emozionale cosa cosa vedi sì è un emozionale ricordo quindi direi un interferenza mentale però ti ricordo è legato a un'emozione di quei momenti lì era quasi più la sorella che diceva lei di non dire niente perché lei si c'è la sorella è quella più direttamente coinvolta che coinvolgeva anche lei in questa situazione di di sentirsi colpevole di sentirsi come potrei dire a usa di causa di sì c'è che talmente diciamo che quello che vedo è che loro si sentivano come se non si mettere meritassero altro che quello ecco il sentimento è quello proprio di siccome ci hanno già mollate qua ci meritiamo tutto abbiamo fatto qualcosa di male e quindi questo ci lo meritiamo ma l'umano a volte ragiona un po come mi pare assai abituati in senso va bene cause esoterica del matrimonio infelice allora molto chiara ma anche mentre lo diceva chiarissimo siccome io sono quella che sono che non mi merito di più non sono in grado è già tanto che c'è qualcuno che mi vuole quindi va bene così aggressività del marito lei che si è trovato un marito aggressivo anche se solo a livello anche se solo a livello mentale verbale psicologico vedo questa grande incapacità del marito di difendersi si altri ti nel senso di portare alla luce le sue esigenze in altro modo e quindi su esigenze anche per quanto riguarda l'esterno no quindi usa poi la casa come sfogo come sfogo dovuto e scontato no un po come quasi se giulia fosse la madre che sicuramente non ti abbandona mai ecco e questo appunto incapacità di esprimere le sue esigenze in altra maniera quindi lo vedo proprio come se sentisse schiacciato e quindi per non essere schiacciato deve urlare per poter avere spazio no non altri strumenti ecco per quanto riguarda quello che vedo lo suo sbottare così perché l'essere cercato vedo un po la ripetizione appunto l'ha detto vedi senza non mi ricordavo neanche la zia la zia la zia del marito però lei no io vedevo sua zia che aveva questa cosa qua uguale magari non aggressiva così perché essendo una donna non lo esprime però questa scattare di botto per esprimere le cose ok la zia con cui ha vissuto quando era piccola e un po il papà ma il papà vedo che non c'era tanto quindi lavorava tanto non ce l'ha molto come riferimento comunque sia la zia paterna che il papà avevano un po questo atteggiamento quindi come se lei avesse trovato di nuovo rifugio con una persona che le ricordasse un po casa ecco va bene chiamiamolo questo padre disincarnato insieme a tutti i parenti di giulia parenti di giulia tranne il papà sono al 126 come dovevi padre e sarà della vita che piange accovacciato a terra che piange 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 di continuo sempre tutta la vita pian c'è come ha fatto magari non c'è come si sentiva dentro da sempre in questa vita è morto così diamo di una piccata era la sola con la pic per quanto riguarda lui la sua esperienza vede diciamo quanto quella depressione quell'essere sempre giù di morale lo abbia tenuto statico non l'abbia fatto vivere quindi esperienza fatta è finita e va bene così non la dalla chiusa diciamo così diversamente sì sì adesso lo vedo più lo vedo più aperto proprio anche a livello fisico più leggero aperto anche lucente in viso e giulia vuole dire che diciamo come esperienza di padre quasi non l'ha vissuta perché tra lavoro e tra che era in questo stato perenne quasi come se quasi non la conoscesse perché non se l'è neanche goduta dice vuole lasciare un messaggio alla sorella di giulia non saprebbe cosa dire quasi senza parole nel senso che quell'esperienza lì non ha senso quindi allora come persona c'è vedendo la persona da lì non ha neanche più sensazioni no quindi non ha senso di colpa non sente dire di mi dispiace perché è una posizione neutra e sa che quella è stata un'esperienza giulia ammettendo ammettendo che che sia questo fratello grande di tuo padre è vivo no è disincarnato e lo chiamalo così lo riverifichiamo se lui chiamiamo i due fratelli cioè padre c'è già il mio suo fratello così anche se ha preso la b che si è staccato a ci parlano ok arriva da disincarnato allora arriva sembra quasi uno zombie è presente come tutti no quella che energia lì con come se avesse sempre qualcuno dietro che loro frusta ancora quell'interferenza lì così ha passato tutta la vita a dover è come se avesse avuto tutta la vita qualcosa dietro che se lui non cercava una vittima soprattutto sessuale aveva questo tormento come se qualcuno lo frustasse tutti tutti i momenti così è come adesso e dove dove sto direbbe sto nel limbo nello in quel post adesso da disincarnato può solo prenderle frustate perché non può fare nessuna vittima ecco quindi ecco il posto lì va bene il padre cosa vuole fare fate dice ma mai un'esperienza così mai il senso come come lui tieni conto che alla vick quindi è neutro quindi come se io li vedo come se vedessero l'esperienza dall'alto no quindi tutta la scena tutta la e quindi a livello informati di informazione dice mi è bastato a vederlo per non voler fare l'esperienza ecco gli sta commentando il fatto che tuo fratello si chiudeva se la meretta delle figlie si va bene salutiamo il padre e basso no ok fatto dato ok chiamiamo nel cinema tutta la famiglia in particolar modo il figlio e il marito e la sorella di giulia allora la sorella davanti in prima fila col figlio molto interessata molto propensa a vedere come funziona tutto per poterlo per vedere se c'è un modo anche per lei per togliersi tutte queste emozioni che ancora un po il marito qualche fila indietro allora curioso ma un po timoroso che tutto quello che vedrà che e che vede perché non ce n'è non c'è il tempo no quindi tutto quello che vede possa essere troppo per lui però incuriosito devo dire che vuole rimanere come se stare un po in più indietro si sente un po più al sicuro tra virgolette la sorella l'hai visto che la sorella in prima fila di fianco al figlio di figlia va bene causa esoterica del non sognare e la sua ps che non c'è lei non è ancora consapevole dei messaggi della sua ps quindi le fanno delle abduction ma lei non si accorge diciamo quello la cosa più principale per cui potrebbe essere utile sognare e sì comunque la consapevole c'è lei che non è ancora consapevole di quello che la ps le vuole dire diciamo che durante la notte la ps che ci parlano quando facciamo c'è quello che vedo spesso era ps che vuole magari non dare i messaggi oppure che si accorge delle abduction nel suo caso questo non avviene non progetto al suo futuro se sono tutte entità mentali soprattutto da tutte e tre bassa autostima soprattutto la dula l'entità metale di livello 4 ok quale è la ricetta per un'autonomia economica buttarsi uscire prendere tutto ciò che che nuova esperienza sperimentare proprio uscire nel mondo nel caso di giulia allora facile nel senso che qualsiasi piccolo movimento verso l'esterno potrebbe essere uno spunto molto interessante per iniziare a poter essere autonoma economicamente ecco perché qualsiasi cosa potrebbe aiutare vedo proprio che proprio crearsi la libertà di aprirsi al mondo di aprirsi e la libertà proprio le crisi al mondo quindi qualsiasi passo lei faccia verso l'esterno cioè vedo proprio appena lei inizia uscire e prende la prima occasione che anche di guadagnare poco nel senso anche solo sperimentare di guadagnare qualcosa ok farà sì che a livello energetico le si aprano le possibilità e poi blocco lo sblocco proprio sì esatto dovrebbe fare a breve nel senso da non dare il tempo i suoi ricordi e i suoi pensieri di fare entrare altre interferenze non pari che la rilocchino esatto ma tanto non serve ma non vale niente ma dove vuoi andare infatti alla sessione muoversi subito giro sito questo in realtà vale per giulia come per tutti sì certo bene a lei anzi lei la invitiamo ad andare nel cinema e ad andare direttamente nella gym dove c'è vic ad eterno energia eterna frequenza e tutti quelli che sono nel cinema la possono se vogliono seguire chi lo fa allora ci sono vabbè giulia ok che come se l'ha già fatto nel senso che durante la sessione mentre lavoravamo è come se in automatico è già andata lì ha già già preso la sua vic la dette ha fatto già una d'eterno ha già l'uomo energia che la segue e la sua eterna frequenza molto in generale direi che la utilizza un po in generale e ha detto a tutti loro quindi la sua sorella suo figlio suo marito di seguirla e le ha fatto vedere questi quattro strumenti diciamo no queste quattro oggetti fantastici e vabbè bambino subito bambino figlio lo vedo adesso non so quanti anni ha ma ragazzino non so ragazzo che prende che prova tutto e la sorella anche lei segue il nipote vede come fa e lo segue un po il marito un po più titubante proprio quasi ha paura di non reggere così grosso carico positivo e lo vede positivo ma come se fosse troppo troppo differente da lui e quindi ci va un po piano prende ma con calma ok andiamo con lei al cluster lei giulia ma che fa aperto portale definitivo sta spazzando via tutto come li vedeva i contratti erano dei piccoli erano delle del tipo delle cornici di vetro però se il porta foto di vetro un po così ecco tanti così un po più grandi più piccole a seconda della vita all'eterno un qua avatar no no lo sto puttando via dentro al portale definitiva ok ad eterno ma anche qua con queste nuove condizioni ci sono ancora gli impianti ma il progetto come si chiamava il progetto ma modulo a metro le entità eteriche le entità mentali le abduction tutto quindi non ci sono più le cose che abbiamo visto non ci sono più i contratti non ci sono più non c'è più l'avatar no ok è possibile ricadere nelle interferenze sì è possibile soprattutto nei casi un po come quelli di giulia dove per parte c'erano tre entità mentali e quindi è più forte è più forte e poi anche quello che facevano quindi era proprio un ossessionale di pensieri per farla rimanere nella comfort zone quindi bastano i ricordi le memorie di quello che succedeva prima e se uno non li vede subito non lo riconosce non li manda via può ricadere immediatamente nelle interferenze soprattutto partendo da quelli mentali sono quelle che riescono agire prima oppure può capitare magari una forte emozione negativa anche e quindi lì magari ci sono arrivano le interferenze eteriche però diciamo nella norma quelle che riportano prima che aprono diciamo il barco nuovamente sono di solito quelle mentali attraverso i ricordi e le memorie e i pensieri negativi ecco e la staticità quello che se la persona dopo la sessione dice abbia fatto la sessione adesso torno del mio tran tran praticamente ripete ricostruisce tutto quello che c'era prima invece deve far qualcosa di diverso questo succede spesso purtroppo a 6 mesi mi viene come mi contattano e mi chiedono perché non è funzionato magari con l'ironia di sottintendere che la stessa non ha funzionato il lavoro non è stato fatto fino in fondo è stato dimenticato il gatto o la casa o strontato di questo genere poi si chiede cos'è che hai fatto quindi come cambiamenti come dito niente ok niente quelle sono tornate facendo la festa le entità sono tornate mascherate da carnevale contente e felici ma poi l'entità non sono niente di che sono semplicemente il motivo per cui noi siamo qua no non ci diamo che siamo qua per darci una mossa se non ci diamo la mossa il gioco te lo ricorda e te lo ricordo in quel modo lì se ok nuova vibrazione 238 miliardi però nuova consapevolezza è tanto ma già che 18 non è che però proprio poco hanno fatti questo che lo dico giulia perché non tu che pensi no di di volare un centimetro più alto del della terra insomma serve 18 ultimamente a me arrivano anche gente persone con meno di un miliardo e 18 800 milioni 500 milioni 600 milioni tanto poco 1,3 miliardi come no ti ricordi le piene di vizi sapevolezza 183 ps 63 quindi confusioni vite precedenti 1691 ottimi valori a molto bene cervello che non era uno scherzo 94 9 9 6 9 6 9 6 9 7 sì esatto messaggio finale fuori fuori piastice fuori 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 di casa fuori sì sì deve stare più fuori possibile in questo periodo girare anche solo camminare tra le persone tra le strade della città vedere la gente vedere come si muovono se fare incontri anche fuori fuori poi nella natura soprattutto per allenarsi a tenere le vibrazioni alte allora diciamo mi fa vedere un'uscita ideale esceva nella natura fa una passeggiata da sola nella natura alza le vibrazioni come può proprio fare il gesto di alzare le vibrazioni con dei respiri profondi mentre cammina ok alza le vibrazioni con le vibrazioni alte inizia a passeggiare nella città e si guarda intorno cerco cercasi cameriera cercasi qua la su giù sentire parlare con le persone a prendere tutto quello che viene qualsiasi azione che le viene dall'esterno da prendere finita la sua passeggia da di nuovo la natura altri minuti fare di nuovo le vibrazioni e poi può tornare a casa questa è la diciamo la uscita ideale che la ps vuole per giulia vuole dire a giulia come azione verso la sua indipendenza ecco sì ok come vedi il figlio si lo vedo molto entusiasta molto carico con i suoi strumenti in tasca che vuole andare ok diciamo a questo bambino ragazzo quello che è di prendere tutte le preoccupazioni che derivano da i litigi e i comportamenti bipolari del padre di metterli in un portale se vuole sia proprio sta proprio come se avesse individuato nella testa del padre questa cosa questo punto sta estrapolando tutto aperto un portale definitivo e si sta buttando dentro e ha chiuso ok giulia come la vedi giulia vedo molto leggera che va sollevata da terra quindi quasi come se volasse ok che guarda suo marito e suo figlio e con guarda loro con entusiasmo nel senso si sente lei quella forte ora quella sì quella forte si sente lei quindi lei che sostiene il figlio e guarda il marito quasi come per come potrei dire quasi come per liberarlo dalla dal carico di dover sostenere lei ecco lei è quella forte quella che ha fatto una sessione faccio una roba da tutti va bene abbiamo finito disconnetti da tutto e tutti